No, ho mangiato tre... No, zia, niente, perché no. Io, Kate e James. Però siamo usciti in pomeriggio, dalle sette, ci siamo visti in Cunzia fino alle otto e mezzo, alle nove. No, dopo... Guarda l'acqua lì. ...ia sono i tuoi. ...dia... ...dia. ...dia. ...dia... 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info dove? lo faccio io questo qui l'ho fatta io? no ma te con te non vuoi che c'è il mare qua che c'è lo scoglio lì? va via! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.